Stop del governo allo sconto in fattura e all'accessione dei crediti. Confartigianato Sardegna lancia l'allarme per un provvedimento che rischia di provocare una nuova profonda crisi alle imprese, molte delle quali rischiano di chiudere per mancanza di liquidità. Le linee guida per un'edilizia sostenibile promosse dal GAL sono state presentate ieri nel corso di un incontro svoltosi nei locali della Cantina Sant'Adi. Carbonia ritrova il suo carnevale dopo tre anni di stop causati dalla pandemia. Domenica 19 febbraio la spilata tanto attesa, il 26 febbraio la festa della Pentolaccia. In Lega Pro la torre sospita l'Alessandria, l'Olbia gioca ad Ancona. In serie D, Ilva e Costa Orientale Sarda giocano in casa, Atletico Uri ed Arzachena in trasferta. In eccellenza la capolista Budoni ospita il taloro Gavui. Ben ritrovati su Canale 40 per questa nuova edizione del nostro telegiornale odierno. Preoccupazione per le imprese artigiane della Sardegna e le famiglie interessate per lo stop allo sconto in fattura e all'accessione dei crediti imposto ieri dal decreto legge approvato dal governo. Sentiamo tutti i dettagli. Un provvedimento inaspettato, ingiusto e dannoso che lascia increduli noi e tutte le imprese artigiane e i professionisti che operano nel sistema casa della Sardegna. Per questo speriamo in un ripensamento del governo per evitare ulteriori situazioni di crisi finanziaria alle realtà produttive e un problema di carattere sociale per quei committenti che hanno basato la fattibilità dei lavori sulla possibile cessione del credito. E il commento di Maria Amelia Lai, presidente di Confattigianato Sardegna e di Giacomo Meloni, presidente degli edili artigiani, sul decreto legge relativo alla cessione dei crediti approvato ieri dal governo. Speravamo in una soluzione che risolvesse il problema, invece non solo non c'è nessuna risposta, ma al contrario il governo ha bloccato, tranne in limitati casi, la possibilità di continuare ad applicare lo sconto in fattura o a cedere i crediti. Proseguono Maria Amelia Lai e Giacomo Meloni. Con questa situazione ci potremo trovare infatti sia con il problema irrisolto dei crediti incagliati, sia con una ingestibilità dei cantieri in corso. Secondo Confattigianato a Sardegna, il blocco previsto nel decreto legge coinvolge le tante imprese che sulla base delle norme sinora vigenti hanno effettuato investimenti e assunzioni nella prospettiva di primi accordi con i committenti di poter continuare a operare garantendo lo sconto in fattura. Con buona pace degli obiettivi green che la misura avrebbe aiutato a raggiungere. Anche il blocco della possibilità di acquisto dei crediti da parte degli enti pubblici rappresenta un altro incomprensibile ostacolo. L'intervento sugli enti pubblici, sottolinano i due presidenti di Confattigianato a Sardegna, di fatto fa tramontare la tanto apprezzata iniziativa di far acquistare dalla Regione Sardegna circa 250 milioni di euro di crediti. Al 31 dicembre scorso, data dell'effettiva cessazione del super bonus 110%, in Sardegna la norma ha generato 2 milioni e 467 mila euro al giorno per un equivalente di 74 milioni al mese, ovvero un totale di 2 miliardi e 99 milioni di detrazioni che sugli oltre 12 mila edifici interessati hanno attivato un giro d'affari di 4,4 miliardi di euro, di cui 2 miliardi e 880 milioni come effetto diretto sulle imprese edili e sui tecnici di 1 miliardo e 500 milioni di euro di indotto. Purtroppo, rimarcano infine Maria Melialaio e Giacomo Meloni, in Sardegna, nonostante l'enorme mole di investimenti che sono andati a ricadere positivamente su imprese, tecnici e indotto, ci sono ancora oltre 300 milioni di euro che le realtà sarde del sistema casa non sono ancora riuscite ad incassare attraverso la cessione dei crediti, ovvero migliaia di imprese rischiano seriamente di chiudere per mancanza di liquidità. Un'attenta ricognizione sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica per l'adozione delle misure utili al superamento della criticità è stata al centro dell'incontro avuto da Angela Scarpa, assessore alle politiche sociali e abitative delle comune di Iglesias, con il direttore generale di Area Sardegna, l'ingegner Filippo Riu. Stamane Francesca Rius ha intervistato Angela Scarpa. Sentiamo insieme. Ci tenevo a sottolineare che la questione abitativa è rimasta fin troppo tempo la cenerentola delle politiche del welfare, nonostante incida profondamente a creare determinati disuguaglianze, non soltanto di reddito, ma territoriali e di genere. Quindi è stato necessario interloquire con altre istituzioni, e questo in particolare Area, e sollecitare che venga messa a disposizione tutto il patrimonio edilizio in loro possesso, affinché appunto il territorio di Iglesias possa risolvere questo problema importante. Assessora, ci saranno adesso dei tempi predisposti, previsti per quanto riguarda l'avvio delle manutenzioni? Sì, ci saranno dei tempi, i tempi saranno molto celeri, perché finalmente hanno preso in considerazione le numerose segnalazioni che in questi anni abbiamo appunto segnalato, sia per quanto riguarda delle specificità dei casi, ma anche in generale per poter dar contezza in modo certo ai nostri concittadini di quello che può essere l'assegnazione dell'abitazione che gli spetta. Ovviamente è importantissimo creare non soltanto delle interlocuzioni interistituzionali, ma cercare di rimettere al centro quelle che sono le politiche abitative in generale, non soltanto perché da troppi anni trascurate, dagli anni 60 in sostanza, ma perché determinano dei fenomeni sociali altrettanto importanti, ma che generano a cascata anche delle repercussioni economiche. Io penso soprattutto ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, che hanno il desiderio di crearsi una propria autonomia, che non può prescindere da avere un'abitazione propria. Penso anche al patrimonio immenso di area, che è costruito negli anni 60, a volte fa sì che non corrisponda alle esigenze attuali, ai mutamenti sociali. Pensiamo ai padri e alle madri separate, che magari necessitano di un'abitazione più piccola, o le persone con disabilità, dove le case non sono adeguate, i nostri anziani. Quindi è giusto riprendere questo importante problema, cercando di venire sempre più incontro a quello che è il cambiamento sociale della nostra comunità. Un accordo di cassa integrazione straordinaria è stato siglato stamane tra l'assessorato regionale del lavoro, le organizzazioni sindacali e le RSU aziendali per i lavoratori della Reno SRL. Gli ammortizzatori sociali valgono per i prossimi 12 mesi, decorrenti dal prossimo 20 febbraio, e interesseranno 109 lavoratori della Reno SRL in forza presso l'unità produttiva di Portovesme. L'azienda si è detta disponibile ad anticipare il pagamento del trattamento di integrazione salariale e ad inoltrare al Ministero del Lavoro l'istanza per la concessione della cassa integrazione guadagni speciale per crisi aziendale. Per ridurre l'impatto sociale, la misura sarà a rotazione all'interno dell'organico aziendale coinvolto, con una sospensione massima di 30 lavoratori al giorno. Andiamo avanti. Presentate ieri nella Cantina di Sant'Adile, le linee guida per un'edilizia sostenibile promosse dal GAL Sulcisiglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari per uno sviluppo edilizio in linea con il contesto urbano e sostenibile. Intervista al presidente del GAL, Luciano Cristoforo Piras. Maurizio Rucci. Integrare gli interventi edili con il paesaggio, utilizzando tecniche tradizionali e risorse naturali locali, materiali riciclabili e non inquinanti, oltre che impianti a basso consumo energetico. Solo le linee guida per l'edilizia sostenibile che il GAL Sulcisiglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari ha presentato ieri nei locali della Cantina di Sant'Adile ad un pubblico numeroso e attento. Il documento, redato dall'ente intercomunale, il primo del genere realizzato nell'isola, intende porsi come strumento operativo e concreto per migliorare e integrare gli interventi strutturali in un'ottica di economia circolare e sostenibile e conformi ai principi da tempo portati avanti dal GAL. Le linee guida si inseriscono nella strategia di sviluppo del GAL in coerenza con gli indirizzi della nuova programmazione 2021-2027 della Regione. Oggi abbiamo approvato le linee guida sull'edilizia sostenibile. È uno strumento molto importante che noi mettiamo a disposizione innanzitutto di noi stessi, del GAL, per le attività che vorrà essere in riferimento ai bandi che sono in capo e che prevedono interventi strutturali nel territorio. auspicando anche che queste linee guida presto diventino un elemento, un riferimento per tutte le attività edificatorie da parte dei comuni del nostro territorio e questo progetto pilota si elevi a sistema per tutta la Regione Sardegna. Il sindaco di Sassari Nanicampus ha annunciato le sue dimissioni da presidente della Rete Metropolitana al governatore Cristiana Solina sia l'assessore degli enti locali Aldo Salaris. Nel documento inviato in Regione il primo cittadino denuncia i ritardi nell'attivazione della città metropolitana di Sassari e nel motivare la sua scelta agli altri primi cittadini della Rete ha spiegato essendo ormai diventato assolutamente insostenibile il divario che si sta determinando tra il Nord e il Sud della nostra Regione sento di dover manifestare il dissenso e la protesta di tutto un territorio e ritengo di doverlo esprimere attraverso le mie dimissioni da presidente della Rete. L'Assemblea ha preso atto delle dimissioni le funzioni saranno svolte dal vicepresidente Vicario il sindaco di Alghero Mario Conoci. Cambiamo argomento sono 116 nuovi positivi al virus in Sardegna su 1.279 tamponi eseguiti 19 diagnosticati da molecolare e 97 da antigenico non si registra nessun decesso è rimasto invariato anche il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva che sono 3 mentre quelli ricoverati in area medica sono in diminuzione meno 4 e sono 156 sono 3.337 le persone in isolamento domiciliare più 19 apriamo con la cronaca la seconda parte del nostro Tg il primo gruppo è stato avvistato l'altra notte a largo dell'isola del Toro poi altri sono sbarcati nelle vicinanze di Capo Sperone nell'isola di Sant'Antioco ancora sbarchi di migranti nelle coste sud occidentali della Sardegna nella notte e nella mattinata di ieri dopo gli oltre 70 intercettati o sbarcati agli inizi della settimana altri 33 clandestini tutti di probabile nazionalità algerina hanno messo piede sull'isola i primi 20 sono stati intercettati da un elicottero del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza vicino all'isola del Toro gli altri 13 dopo lo sbarco nei pressi di Capo Sperone dai guardi a coste delle fiamme gialle tutti sono stati condotti al centro migranti di Monastir un nuovo impulso per concludere nei tempi più rapidi il percorso verso la riapertura della strada di Montepino chiusa da nove anni in seguito ai danni del ciclone Cleopatra con questo obiettivo l'assessore regionale dei lavori pubblici Pierluigi Saiu ed il vice presidente della Giunta e assessore alla programmazione bilancio Giuseppe Fasolino hanno riunito i vertici di Anas della provincia della Gallura soggetti esecutori degli interventi nell'ambito di un incontro che si è tenuto ieri mattina e a cui hanno preso parte anche i consiglieri regionali del territorio dunque vediamo l'intervento dell'assessore Pierluigi Saiu un incontro che è servito a confermare l'impegno comune delle istituzioni per risolvere una situazione difficile che va avanti da troppo tempo insieme alla provincia e insieme all'Anas con riferimento agli interventi che servono abbiamo confermato l'impegno della regione Sardegna a dare copertura finanziaria anche ai maggiori costi che dovessero rappresentarsi per la realizzazione dell'opera e abbiamo preso l'impegno di rivederci fra un mese per discutere insieme alla luce del progetto di fattibilità tecnica ed economica che sarà realizzato e che oggi la provincia ci ha comunicato di aver appaltato era fondamentale fare un incontro su questa strada che sta rischiando davvero di diventare un'incompiuta quindi dovevamo per forza fare una fotografia della situazione attuale e poi stabilire un cronoprogramma anche di incontri intermedi che consentano di accelerare i tempi perché non si può più aspettare perché sono incomprensibili questi ritardi Cabras si è aggiudicato il premio di lega ambiente di comune riciclone costiero vediamo insieme il comune di Cabras si è aggiudicato il premio di comune riciclone costiero unico comune costiero premiato per la provincia di Oristano grazie all'importante risultato ottenuto durante il 2021 aver superato il difficile scoglio dell'80% di raccolta differenziata percentuale non semplice da raggiungere a causa dell'afflusso turistico stagionale che rende più impegnativo il lavoro di differenziazione del rifiuto per la prima volta abbiamo superato la soglia dell'80% di raccolta differenziata ha detto il sindaco Andrea Abis si tratta di un riconoscimento che fa onore a tutta la comunità di Cabras e che evidenzia la bontà del lavoro che stiamo svolgendo con le politiche di tutela ambientale del territorio e del mare grazie alla presenza dell'area marina protetta ogni anno ha aggiunto il sindaco Andrea Abis l'importante presenza turistica a Baleare mette a dura prova il sistema organizzativo con una produzione di rifiuti che sale moltissimo e che è difficile da differenziare soprattutto nelle spiagge il premio è dedicato a tutti i cittadini alle imprese in particolare a quelle della ricettività e ristorazione agli operatori ecologici ai quali va il nostro ringraziamento per la serietà e l'impegno soddisfatto anche l'assessore dell'ambiente Marco Magia che ha spiegato come per garantire la raccolta differenziata nelle spiagge dell'area marina protetta penisola del Sinis isola Maldiventre il comune da anni abbia messo in piedi una rete ben strutturata che prevede il posizionamento dei contenitori suddivisi secondo la differente natura del prodotto che sia esso umido, plastica, vetro, carta o secco durante la stagione estiva proprio per monitorare costantemente la situazione e garantire un buon servizio ha concluso l'assessore Magia viene incrementato anche il passaggio degli operatori ecologici per il ritiro Lo scorso 25 gennaio il personale della stazione forestale di Sant'Antioco appartenente all'ispettorato del corpo forestale di Iglesias durante un controllo tecnico ha rilevato presso la pinetta di proprietà IMS di Punte Dretto in Agro di San Giovanni Suergiu alcune operazioni di taglio selviculturale eseguite in difformità dell'autorizzazione rilasciata a conclusione degli accertamenti è stato contestato un illecito amministrativo Il corpo forestale ricorda che la pinetta di Punte Dretto costituisce un importante polmone verde per tutta la comunità del Sulcis ed è testimone delle capacità tecniche di recupero delle aree in via di desertificazione che nella metà del secolo scorso sono state sottoposte al rimboschimento da parte dell'amministrazione pubblica nelle zone aride e difficili dal punto di vista climatico Ed ora la cronaca una denuncia per uccellagione del sequestro di 59 tordi e di mille trappole e il bilancio di un'operazione del corpo forestale in località Isolias al confine con il parco regionale di Gutturumannu Il personale della stazione forestale di Uta ha denunciato una persona accolta in flagranza di reato perché, riferiscono, intenta a catturare due tordi con il metodo dei lacci L'uccellatore, secondo gli agenti, aveva predisposto un sentiero attraverso la macchia nel quale erano posizionate circa mille trappole con i lacci A seguito della successiva perquisizione domiciliare sono stati recuperati e sottoposti a sequestro altri 56 uccelli già spiumati e pronti per la commercializzazione L'uomo è un pensionato di 78 anni di capoterra incensurato L'operazione è stata portata a termine anche grazie alla collaborazione di cittadini che hanno segnalato l'attività illecita Scontro tra auto e furgone quattro feriti, due gravi e l'incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri all'incrocio tra la strada provinciale 59 e la strada della zona industriale di San Luri Nell'impatto sono rimaste gravemente ferite le due occupanti dell'auto una casalinga 61enne di San Luri ed una pensionata 79enne di Samassi Entrambe sono state accompagnate dalle ambulanze del 118 in Codice Rosso negli ospedali Brozu e Santissima Trinità di Cagliari Il leso, il conducente del furgone mentre l'altro occupante del mezzo un operaio 51enne di Gairo è stato accompagnato all'ospedale di San Gavino così come il conducente dell'utilitaria un 31enne di San Luri Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Nuraminis del Norm di San Luri e della stazione di Gesturi Sulla strada la viabilità è stata parzialmente interrotta per circa due ore Intervengono insieme ai volontari del soccorso per un trattamento sanitario volontario nei confronti di un 26enne di Villa Sor ma quando, anche a seguito della grave alterazione psicofisica del giovane che faceva resistenza hanno deciso di controllare la sua casa i carabinieri si sono trovati davanti a 7 grammi di cocaina 160 grammi di marijuana un bilancino di precisione 595 euro in banconote di piccolo taglio forse riconducibile ad attività di spaccio e ad un coltello a serramanico di 24 centimetri sulla cui lama sono stati rinvenuti i residui di hashish i carabinieri della stazione di San Luri con l'aiuto dei sanitari sono poi riusciti a riportare la calma al giovane che è stato poi accompagnato dal 118 all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per gli accertamenti sanitari del caso cambiamo argomento ottimi riscontri dalla partecipazione del Parco Geominerario della Sardegna all'ultima edizione della Borsa Internazionale del Turismo di Milano ce ne parla Maurizio Roci ottimi risultati per il Parco Geominerario storico e ambientale della Sardegna all'edizione 2023 della Borsa Internazionale del Turismo che si chiusa il 14 febbraio a Milano la partecipazione dell'ente e la promozione delle sue ricchezze si chiusa con un bilancio più che positivo nell'ampio stand messo a disposizione sono state proposte le iniziative in programma per il 2023 e consegnato a numerosi visitatori che hanno affolato la trigione milanese materiale promozionale, divulgativo e gadget oltre al nuovo calendario illustrato che il Geoparco ha realizzato in occasione del concorso fotografico Geominerario 2023 nei suoi spazi il Parco Geominerario ha ospitato anche i gestori di numerosi siti tra cui il Consorzio Natura Viva di Domus Novas l'Associazione Menabodi Pau la Fondazione del Cammino Minerario di Santa Barbara Iglesias Servizi l'Associazione Speleoclub di Nugis la cooperativa Luguria-Montevecchio lo stand, tra gli altri, è stato inoltre visitato anche dal sottosegretario del Ministero della Cultura Vittorio Sgalbi l'assessore regionale del turismo Giovanni Chessa il sindaco Mauro Zai e il consigliere presidente della Commissione Cultura Matteo De Martis del Comune di Iglesias la partecipazione alla BIT ha rappresentato un passaggio fondamentale per diffondere la conoscenza e l'iniziativa del Parco ad un vasto pubblico nazionale ed internazionale il Parco, ha dichiarato il commissario Elisabetta Anna Castelli deve fungere da volano per il territorio per la riscoperta dei beni legati all'epopea mineraria dei secoli scorsi e non solo che dal 2021 valorizziamo con l'iniziativa Open Your Mine, miniere aperte Bentornati in studio, compleanno davvero speciale a Cagliari per Luisetta Mercalli festeggiata per i suoi 108 anni nata a Carloforte da Pier Giorgio Mercalli e Limbani a Rivano ha vissuto a cavallo di due millenni ha visto da vicino le due guerre mondiali ed è sopravvissuta da appena tre anni alla pandemia della spagnola ha dedicato la sua vita alla famiglia e al lavoro alternandosi tra Cagliari e Carloforte dove a 17 anni ha iniziato ad insegnare all'avviamento professionale prima musica e canto corale, poi economia domestica dal 1951 l'attività di insegnamento di Luisetta Mercalli è proseguita a Monserrato dopo aver sposato Luigi Quacquero trasferitasi a Cagliari dopo il matrimonio la signora Mercalli ha lavorato presso la scuola Medi Alfieri fino al 1979 per poi godersi, circondata dall'affetto delle due figlie Angela, Maria e Miriam e delle tre nipoti Alice, Francesca ed Elena il meritato riposo dopo tre anni di assenza ritorna il Carnevale di Carbonia che per la prima volta raddoppia i suoi appuntamenti domenica 19 febbraio la tradizionale sfilata il 26 febbraio la pentolaccia l'evento è organizzato dalla Proloco Carbonia dal Centro Italiano della Cultura del Carbone e dal sistema museale locale con il patrocinio ed il contributo del Comune di Carbonia l'animazione sarà curata da Angel Eventi più di 800 maschere spieleranno per le vie del centro saranno sei i gruppi con carro allegorico cinque i gruppi a piedi provenienti da Carbonia dalla sud Sardegna e dalla provincia di Cagliari è prevista anche la partecipazione di gruppi di Cortoghiana e Barbusi ad aprire la sfilata sarà la maschera Crabò seguita dalla marionetta di Pinocchio guidata dall'artista Maurizio Lai nelle vesti di Geppetto dal gruppo spontaneo dei Pagliacci e dalla banda musicale Vincenzo Bellini il raduno è fissato in piazza Ciusa alle 15 con partenza alle ore 15.30 ed ora parliamo di sport sono tre gli anticipi in programma sabato 18 febbraio dunque domani per la decima di ritorno del campionato di eccellenza con inizio alle 15.30 il Calangianus riduce dalla sconfitta di Iglesias ospita il Sant'Eodoro Portorotondo terza forza del girone il Ghilarza ospita la Ferrini il Carbonia gioca sul campo di una nuorese in grande difficoltà sola in coda la classifica nel programma domenicale in programma alle 15 spicca l'incontro tra la capolista Budoni ed il Taloro Gavoi la vice capolista sassa di calcio Latte Dolce decimata dalle squalifiche dopo la partita di Budoni Piasi fermato per sei giornate Padovani Celin per due e Cau per una ospita la Villa Cidrese di Graziano Mannu rilanciata in classifica da due vittorie in quattro giorni l'Iglesias rilanciato a sua volta da tre vittorie consecutive gioca a Bosa punti pesanti quelli in palio tra Cosmoto Monastire e Lanusei e tra Lipunti e Tarros l'Ossese infine ospita il Sant'Elena riposa invece l'Arbus Nel girone B del campionato di Lega Pro giunto alla nona giornata di ritorno domenica 19 febbraio la Torre sospita l'Alessandria impegnata nella zona bassa della classifica l'Olbia gioca ad Ancona contro la quarta forza del girone Nel girone G del campionato di Serie D per la settima giornata di ritorno l'Ilva Maddalena ospita l'Aprilia di Marco Mariotti la costa orientale Sarda attende la visita dell'Angri un quello che appare come un importantissimo scontro salvezza giocano in trasferta all'Arzachena prima tra le Sarde gioca a Tivoli e l'Atletico Uri la squadra Sarda più in forma nel girone di ritorno sul sempre difficile campo del Cassino la giunta comunale di Carbonia ha approvato il progetto definitivo lo schema di convenzione la determinazione delle tariffe per l'intervento di sistemazione del campo sportivo degli spogliatoi e per la realizzazione di tre campi da padel presso il campo di Sganaus la convenzione prevede l'affidamento in concessione all'ASD MGM Sport della gestione dell'impianto sportivo denominato campo sportivo di Sganaus con gli annessi tre nuovi campi da padel e con questa notizia di sport si chiude qui questa prima edizione del nostro telegiornale odierno vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo per la giornata di domani e di domenica e con Noasa in corso il nostro telegiornale in lingua sarda grazie per essere stati con noi e per l'attenzione vi do appuntamento alle prossime edizioni del nostro TG40 e vi auguro un buon pomeriggio Grazie a tutti Autore dei sorrisi